Mussolini! Chi? Luigi Di Maio? Lo faccio attendere che mi preparo psicologicamente. Ah, carissimo Pikachu, come stai? Tutto bene? Come va lì a Roma? Eh sì, volevo complimentarti con te per l'ottima operazione fatta contro i servizi segreti russi. Cosa è successo allora? Cosa gli ha dato il Walter Biot? Cosa? La ricetta della pizza margherita di zia Maria? Ma i russi non capiranno mai i nostri segreti, Pikachu, non ti preoccupare. Non capiranno mai come tu sei diventato ministro degli esteri, no? Noi gli daremo questa soddisfazione!